Buongiorno ancora una volta, buongiorno, spero che è stato bene, che avete trascorso, oppure che state trascorrendo un buonissimo sabato, che Dio vi benedica tanto e vi riempie del suo Spirito Santo in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Adesso faremo, diciamo, la conclusione, potrebbe essere considerata come la conclusione del capitolo 24 del Vangelo di Matteo, e il sabato prossimo continueremo sempre, in rapporto sempre con il capitolo 24, perché sapete che quando i loro evangelisti hanno scritto non c'erano capitoli, non c'erano, diciamo, i versetti, quindi sarà sempre nello stesso discorso, anche Matteo 25 è quello che faremo. E oggi, diciamo che sarà, come abbiamo detto, è la conclusione, quasi come la conclusione di Matteo capitolo 24, e oggi parleremo di un segno dei tempi, importantissimo che è il movimento ecumenico, in modo specifico, e in modo ancora più specifico il lato oscuro del movimento dell'ecumenismo. Perché questo titolo? Perché più volte quando si parla di ecumenismo abbiamo le frasi già preelaborate, che sentiamo sempre, dobbiamo pregare con loro, dobbiamo dialogare, dialogare, quindi ci sono sempre queste parole che, se non andiamo a vedere nella scrittura, cosa dice la scrittura, possiamo essere ingannati, perché come ha detto Gesù, in Matteo capitolo 24, versetto 4, guardate che nessuno vi ingagna. E prima di iniziare vi invito a fare una piccola preghiera, parlo in questo momento, siamo sul punto di parlare della tua parola, e abbiamo più che mai bisogno del tuo Spirito Santo, apre le nostre menti, i nostri cuori, all'ascolto solo della tua voce, nel nome del tuo Filo Gesù ti abbiamo pregato, quindi parleremo del lato oscuro, del movimento oppure dell'ecumenismo. Perché il lato oscuro dell'ecumenismo? Prima l'ho detto, l'ho accennato, perché a quanto pare potrebbe essere una cosa positiva. Ma cosa dicono le scritture? Qua facciamo una premessa? Noi presentiamo le cose, come dicono le scritture, in modo che ognuno di noi possa fare la sua scelta, usando il suo libero arbitrio. Perché è così, quando ho conosciuto, diciamo perché prima, con mia moglie Yolanda, eravamo molto coinvolti nel movimento ecumenico, eravamo come delle pietre angolari del movimento ecumenico, qua, diciamo, a Parma. E per diversi anni siamo stati coinvolti in questo movimento, fino a quando Dio ha aperto i nostri occhi e abbiamo detto sulla base delle scritture, pensiamo che non sarebbe male, oppure è meglio non frinquettare più questo movimento. Per quale motivo? Andremo a vedere il motivo. Quindi, quello che ci ha, diciamo, la nostra preoccupazione, qual è? È che i fratelli in Cristo possono essere coinvolti in diverse cose senza sapere veramente la profondità delle cose. Un po' come quando ero ancora cristiano cattolico, quando facevo delle domande, mi dicevano, no, dai, dai, Denis, stai tranquillo, devi solo... Basta avere la fede. Ma per me la fede era una cosa così astratta che non si può spiegare. Quindi basta avere la fede e vai avanti. Finché ho capito che la fede viene da quello che si sente e quello che si sente viene dalla parola, dalla parola di Dio. Quindi quello che facciamo oggi è di dare gli strumenti in modo che ognuno di noi non possiamo obbligare qualcuno a scegliere, a fare le sue scelte. No. Ognuno, sulla base di quello che avremmo detto, potrà fare le sue scelte. Ok. Iniziamo. E per poter iniziare, ricordiamoci che Gesù Cristo in Matteo, andiamo, leggiamo prima il versetto, in Matteo capitolo 16, versetto da 1 a 3, c'è qualcosa che dice Gesù Cristo. Leggiamo insieme con la sorella. I farisei e i saducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Ma egli rispose, quando si fa sera, voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli. quindi questo è un segno dei tempi. E perché un segno dei tempi? Perché Gesù Cristo, ricordate, vediamo bene, lui dice, i farisei vogliono venire, vogliono vedere un segno, facci vedere un segno, ma lui dice, voi sapete distinguere le cose quando c'è bel tempo. Voi sapete che ci sarà qualcosa che arriva quando c'è la tempesta oggi, oppure, diciamo, quando vedete che anche noi, quando vediamo che il sole, il cielo oscuro, già, vediamo che c'è la pioggia che sta arrivando. Ma per i segni dei tempi non riusciamo a discernerli. Perché è un segno dei tempi? Perché c'è anche qualcuno che ha detto, no, non è un segno dei tempi. Ma però, cosa dice la Bibbia? È un segno dei tempi. Perché poi, se andiamo in Prisma 61, 5, notiamo bene che è scritto quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. in rapporto a cosa, il versetto 2, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Quindi questo è un segno dei tempi per la venuta del nostro re. Pace e sicurezza. È proprio la parola d'ordine. Pace e sicurezza questo movimento ecumenico. E notiamo bene che come avevamo già detto l'ultima volta, non l'ultima volta, diciamo, la volta in cui abbiamo parlato della contraffazione del ritorno di Gesù Cristo, avevamo visto che nello stesso modo in cui Gesù Cristo ha detto nella sua parola in Giovanni capitolo 17 versetto leggiamo dal versetto 20 a 21 or io non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola affinché siano tutti uno come tu o padre sei in me e io in te siano anche essi uno in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato che tutti siano uno come tu o padre sei in me o in te e questa è la parola messa e questo versetto messo davanti per poter promuovere questo movimento ecumenico che tutti siano uno siano anche uno in noi affinché quindi il proposito qual è affinché il mondo creda che tu mi hai mandato ma abbiamo visto che l'anticristo cercherà cercherà di fare in modo che il mondo sia uno per preparare la seconda venuta per preparare la falsa venuta del messia oppure per preparare la contraffazione della venuta di Gesù Cristo quindi l'inemico anche lui sta lavorando per fare in modo che tutti siano uno nello stesso modo in cui Gesù Cristo tramite il suo spirito santo lavora in modo che i credenti siano uno e per diventare uno c'è bisogno di un governo mondiale c'è bisogno di un ordine mondiale e quindi fanno di tutto per la preparazione di un nuovo ordine mondiale ma perché un nuovo ordine mondiale se parliamo di nuovo ordine mondiale significa significa che c'è stato un vecchio ordine mondiale per poter realizzare il nuovo ordine mondiale ci sarà bisogno di fare la chiamata per l'unità mondiale e qual è il proposito per rimpiazzare il vecchio ordine mondiale e per portare avanti gli obiettivi del vecchio ordine mondiale il vecchio ordine mondiale si trova in Genesi capitolo undici chi era l'instigatore del vecchio ordine mondiale Nimrod Nimrod era l'instigatore del vecchio ordine mondiale che lui con i suoi costruivano una torre quando si parla di torre fa già allusione all'aspetto spirituale lui costruiva una torre per arrivare fino in cielo per poter diventare o possidare Dio e abbiamo il Parlamento Europeo a Strasbourg in Francia che è stranamente quasi uguale alla torre di di Babel di Genesi capitolo undici è un caso non è un caso non è che sono alzati così e poi a un certo momento hanno detto ma ho sognato sogniamo e facciamo così no c'è sempre un proposito c'è un perché e nel Parlamento Europeo abbiamo anche questa sempre questa questa immagine del dell'Unione perché il proposito di Lucifero è sempre stato e del re anche della Terra di fare in modo che tutti siano uno per quello abbiamo anche l'Unione Europea per cercare sempre di essere l'uomo tutti vogliono sempre essere uno non è iniziato oggi il progetto da Genesi capitolo undici e nel Parlamento europeo possiamo vedere la statua dell'uomo del peccato del piccolo corno della persona del papato lì se lì significa che lui in realtà che dietro le quinte e abbiamo anche il giovane Paolo II che anche lui ha chiamato al nuovo ordine mondiale abbiamo anche Ratzinger che anche lui benedetto XVI che anche lui ha chiamato al nuovo ordine mondiale come possiamo vedere anche in questo in questo video l'uomo moderno adulto eppure talora debole nel pensiero e nella volontà lasciati prenda per mano dal bambino di Betlemme non temere fidati di lui la forza vivificante e per la sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici quindi abbiamo abbiamo una chiamata al nuovo ci sono tantissime persone che hanno parlato però oggi qua mettiamo solo queste informazioni per guadagnare anche in tempo per il nuovo ordine mondiale e abbiamo anche Shimon Peres che anche lui mi dice qua quello di cui abbiamo bisogno oggi è un'organizzazione delle religioni unite le nazioni unite delle religioni e cosa pensa Peres chiede a Francesco di guidare l'ONU delle religioni Peres propone al Papa l'ONU delle religioni in stile quindi vediamo che il mondo ha bisogno di trovare una risposta a delle calamità a delle cose che succedono al riscaldamento climatico fra virgolette perché bisogna anche vedere se veramente c'è il riscaldamento climatico tutto questo per portare a uno scopo a qualcosa di spreciso che si trova in Matteo capitolo 15 che è l'abominazione della desolazione di cui abbiamo già parlato e chi è questo Papa perché loro tutti i leader se anche andate su internet vedete che tutti i leader convergono verso di lui per poter perché riconoscono in lui un'autorità morale tutti vanno verso di lui tutti amano il Papa ha lavato i piedi di qualcuno ha lasciato la sua dimora per andare dai coni poveri ha fatto questo ma un punto solo un punto delle dottrine non è cambiato neanche un punto è cambiato la Madonna è sempre la Madonna la domenica è sempre la domenica gli santi sono sempre lì ci sono sempre le messe per poter quindi quello che ci salva in realtà neanche su un punto non cambia ma ci sono tante cose che fanno per poter distrarci e sono tantissime che dicono si è cambiato il Papa è cambiato non è mica come quello del Papa del Medioevo che perseguitava ma non sappiamo che ci scordiamo che la persecuzione ha due fasi la piccola e la grande tribolazione chi è questo Papa perché tutti vanno a lui tutti hanno chiamato all'unità dei cristiani no? abbiamo qua anche perché è storica perché nel 1999 la Chiesa Cattolica e la Chiesa Protestante Luterana hanno firmato un accordo che ha posto fine alla protesta Lutero credeva che fossimo salvati per grazia attraverso la sola fede Amen? ma non è tutto la Chiesa Cattolica crede che fossimo salvati per le opere e ci fu la protesta nel 1999 loro hanno scritto insieme perché nella Chiesa Protestante c'erano molte false salvezze la gente si battezzava ma non dava frutto e poiché non cercavamo i frutti non era il problema perché non era necessario per la salvezza non lo è ma fa capire se sei salvato quindi cosa hanno fatto queste due Chiese? hanno messo insieme le due definizioni sto leggendo testualmente dal sito web del Vaticano la giustificazione significa che Cristo è la nostra giustizia in cui noi condividiamo per mezzo dello Spirito Santo secondo la volontà del Padre insieme noi cattolici e i protestanti luterani crediamo e confessiamo che per sola grazia nella fede nelle opere salvifiche di Cristo e non per merito nostro siamo accettati da Dio e riceviamo lo Spirito Santo che rinnova i nostri cuori mentre ci attrezza e ci chiama alle buone opere questo ha posto fine alle proteste di Lutero fratelli e sorelle la protesta di Lutero è finita è vostra nel 1999 questo è stato firmato tra la Chiesa Luterana la Federazione Mondiale e cinque anni dopo i metodisti di tutto il mondo hanno firmato lo stesso accordo ma ad oggi non abbiamo ancora nessun evangelico protestante che si alzerà e firmerà questo accordo per concordare con i nostri fratelli e sorelle che siamo salvati per grazia attraverso la fede e le buone opere credo sia qualcosa che deve essere risolto c'è una sfida per voi quindi la protesta è finita da 15 anni e qui divento un po' sfacciato perché sfido i miei amici pastori protestanti se non ci sono più proteste come possono esserci chiese protestanti forse ora siamo di nuovo tutti cattolici quindi vediamo bene che siamo tutti cattolici vediamo che in realtà quello che sta dicendo non è che si sta sbagliando perché i protestanti adesso non ci sono più sembra che non ci comunque c'è sempre un rimanente ma vedremo quando hanno quanto hanno lavorato per questo e la domanda quale cerchiamo di rispondere adesso è chi è questo papa chi è perché tutti vedono in lui come il rappresentante l'autorità morale in cui ci dobbiamo fidare possiamo vedere qua lo schermo che questo papa è un gesuita un papa gesuita una prima cosa al Vaticano e quello che noi cerchiamo di rispondere la domanda ma chi sono i gesuiti perché è la prima volta che un papa gesuita diventa diciamo che un papa è gesuita per questo vi invitiamo ad andare sul nostro canale portatori di luce youtube per vedere la serie che abbiamo fatto su questo che è intitolato dietro la porta chi sono i gesuiti perché sono sorti ricordiamoci le 95 tesi di Martin Lutero e che ha suscitato tanta diciamo che ha dato un via alla riforma perché anche prima di Martin Lutero c'erano i riformisti c'era John Giovanni Calvino c'era John Wycliffe che già erano prima di Martin Lutero ma noteremo una cosa che per quale motivo sono sorti i gesuiti prenderemo due fonti per vedere per capire meglio prima leggeremo in questo libro con la sorella a Roma la compagnia di Gesù un'organizzazione missionaria cattolica romana riceve il suo statuto da Papa Paolo III l'ordine dei gesuiti ha svolto un ruolo importante nella controriforma e alla fine è riuscito a convertire milioni di persone in tutto il mondo al cattolicesimo il movimento dei gesuiti è stato fondato da Ignatius de Loyola un soldato spagnolo diventato sacerdote nell'agosto del 1534 i primi gesuiti Ignazio e sei dei suoi studenti fecero i voti di povertà e castità nel settembre 1540 Paolo III approvò la concezione della compagnia di Gesù fatta da Ignazio e nacque l'ordine dei gesuiti l'ordine dei gesuiti ha svolto un ruolo importante nella controriforma quindi non ci dobbiamo meravigliare se Tony Palmer dice nel suo video che non ci sono più protestanti ha svolto un'azione importante nella controriforma perché c'è stata la formazione della chiesa poi c'è stata la deformazione poi c'è stata la riforma queste sono le tre tappe della chiesa e possiamo vedere questo qua è il loro logo il loro emblema che questo è Ignazio di Loyola nella sua foto un disegno e possiamo anche vedere in questo in questa encicopleghia britannica possiamo leggere insieme Gesuità membro della compagnia di Gesù un ordine cattolico di religiosi fondato da Sant'Ignazio di Loyola riconosciuto per le sue opere educative missionarie e caritative l'ordine è stato visto da molti come il principale agente della controriforma e successivamente è stato una forza trainante nella modernizzazione della Chiesa la controriforma la controriforma e se qualcuno potrebbe dire sì va bene cosa ne pensa lo spirito la profezia possiamo leggere nello spirito la profezia cosa dice i protestanti di tutta la cristianità erano circondati da formidabili nemici con i primi trionfi della riforma Roma stava raccogliendo nuove forze nella speranza di schiacciarla fu allora che fu fondato l'ordine dei gesuiti il difensore più spregiudicato potente e crudele del papato liberi da tutti gli obblighi e gli interessi umani morti ai diritti dell'affetto naturale sordi alla voce della loro ragione e della loro coscienza i gesuiti non conoscevano altri legami e regole diverse da quelle del loro ordine né alcun altro dovere se non quello di accrescere la propria potenza lo spirito professione dice chiaramente fu allora fu fondato l'ordine dei gesuti il difensore più spregiudicato potente e crudele del papato per quale motivo per eradicare la riforma questo è il loro proposito e cosa ancora di loro proposito c'è carino fortuna e potere solo per farli servire alla soppressione del protestantesimo e al ristabilimento della supremazia papale e possiamo vedere anche qua sulle foto abbiamo i naci di Loyola qua che caccia via Lutero per loro dal cielo abbiamo qua che calpesta Lutero e abbiamo la Madonna qua che caccia via Lutero dal cielo possiamo anche vedere in questa immagine la religione vittoriosa sull'eresia e il protestantesimo quindi fratelli e sorelle se parliamo oppure vediamo anche un giorno qualcuno ci invita oppure invita qualcuno anche nelle nostre comunità che è un gesuita fratelli ricordiamoci cosa aveva detto lo spirito di profezia cerchiamo dove dove la trappola deve essere per noi un campanello di allarmi perché sempre con questa cosa dell'ecumenismo dobbiamo dialogare insieme perché le parole che portano sono sempre sì ha parlato bene ha parlato bene ma cosa dice la scrittura dobbiamo sempre essere sta sta scritto qual è il loro proposito la soppressione del protestantesimo e il ripristino della supremazia papale e possiamo anche vedere in questo giornale il papato è il primo gesuita della storia perché questo fratelli come abbiamo detto ognuno di noi deve vedere la mella come questa mella qui non vedere solo un lato ma vedere anche l'altro lato per essere in grado ognuno di noi di fare le sue scelte allora adesso andiamo a vedere un po' la tecnica per poter eradicare il protestantesimo perché abbiamo visto che ci sono due motivi due obiettivi la soppressione del protestantesimo in modo che la parola di Palmer si possa avverare che non ci sono più protestanti che siamo diventati tutti cattolici e la supremazia del del papato come abbiamo detto presentiamo tutto e poi ognuno fa le sue scelte abbiamo questo uomo non so se lo conoscete che si chiama Karen Friburgo in Briscovia 5 marzo 1904 è morto il 30 marzo 1984 è stato un gesuita e teologo tedesco cattolico fra i protagonisti del rinnovamento della chiesa che portò al concilio Vaticano Vaticano 2 le possiamo anche vedere qua nelle foto con Ratzinger colui che è diventato il papa Benedetto XVI questo uomo questo gesuita ha scritto un libro incredibile un libro con titolo Unity of the Church quindi l'unione della chiesa l'unità della religione è una possibilità attuale Karen questo gesuita ricordiamoci quale è il loro proposito supremazia del papale e soppressione del protestantesimo questo è il loro proposito in questo libro fratelli se lo leggete voi cadete non so cadete dalle nuvole non so come un po' come se il cielo era caduto sulla vostra testa perché perché in questo libro lui dice chiaramente i metodi di infiltrazione di tutte le chiese e della caduta di tutte le chiese e vedremo il piano che c'è dentro di questo libro è incredibile in questo libro cosa dice possiamo leggere il primo paragrafo con la sorella in primo luogo Rahner riconosce che molti protestanti sono molto stettici sull'idea della riunificazione con Roma per questo motivo una strategia deve essere utilizzata per superare questa resistenza continuo il sorella prima di entrare nel pubblico dominio corteggiate pacificamente i maestri del pensiero nelle chiese che volete influenzare sulla base delle loro conoscenze teologico teologiche afferma Rahner questi dirigenti della chiesa possono decidere a favore dell'unità della chiesa continuo notta il piano la decisione di unificare sarà presa privatamente da un numero limitato di leader per prendere queste posizioni queste decisioni mai quando ero nel comitato non è mai decisioni mai per fare parte anche del movimento tutto mai venuto e dire allora questo è quello che dobbiamo fare vogliamo fare votiamo chi è contro e chi è per mai mai un voto per quale motivo fa parte del piano di infiltrazione sulla base vedete bene corteggiate pacificamente i maestri del pensiero nelle chiese che volete influenzare sono i maestri del pensiero quindi quelli che dirigono che devono essere corteggiati in modo che saranno loro saranno loro a fare il lavoro nelle loro comunità sulla base delle loro conoscenze teologiche loro non ci verranno mai a dire abbandonate il sabato a volte ho sentito questa cosa quando facevo ancora parte nel movimento ecumenico sì non ci chiederanno di abbandonare il sabato poi ci chiederanno ah sì è la seduzione wow sì wow non ci chiederanno mai quindi possiamo andare insieme fino a quale punto vedremo cosa dice Rena Renner continuiamo insieme possiamo leggere insieme con la sorella quindi sarà necessario aspettare fino a quando non lavoreranno politicamente per vendere l'idea alla propria gente usando ovviamente i termini e le idee che saranno facilmente accettate dalla gente della loro chiesa nessuno può parlare la lingua di una chiesa meglio di qualcuno che ne fa parte chi vende l'idea non sono loro a vendere l'idea ma i maestri a pensare che sono i dirigenti che sono i pastori leggiamo continuiamo con la sorella con gentilezza all'inizio ma anche con insistenza possono presentare l'idea alla comunità in assemblee pubblicazioni attraverso espedienti sottili e insistenti della terminologia nel mondo nel mondo manipolativo di oggi un cambiamento di questo tipo è chiamato paradigma cambiamento delle dottrine di base una volta che i leader del pensiero di una particolare chiesa sono determinati per l'unità svolgeranno con cura il loro compito politico come racconta runner possono lavorare con zelo con i membri della chiesa ottenere supporto dai membri prima di presentare l'argomento al voto chi lavora qua sono i nostri che lavorano per per convincere loro dove sono sono a casa loro tranquilli tanto hanno già i membri hanno già i maestri del pensiero con la loro parte e lasciano loro fare il lavoro e poi chi non ci sa che dirà che sarà contro questo sarà chiamato dissidente sarà chiamato colui che non vuole l'unione della chiesa non so se vi è mai capitato questa cosa cosa dice ancora Rena la tecnica di scambio di colpiti è ben immaginata per promuovere l'ecumenismo esponete le persone addette ad altre dottrine e le barriere crolleranno in questo caso le persone inizieranno a porre domande quanto è importante la dottrina perché non unirci all'idea che tutti noi amiamo Gesù e quello potrebbe essere proprio il gancio che catturerebbe molto vedete quindi cosa dicono esponete le persone a altre dottrine e le barriere crolleranno la tecnica di scambio dei polpiti è ben immaginata e adesso ho avuto qualche settimana fa non so due o tre settimane fa che facevo uno studio con una ragazza una donna che è appena uscita dalla chiesa evangelica lei ha fatto una testimonianza a me lei mi diceva come è andata in una chiesa avventista un sabato con qualcun altro per dire wow sono vedi siamo fratelli qua vedi qua c'è la buona dottrina e tutto arrivano chi predicava quel giorno chi ha parlato dall'alto del pulpito un sacerdote cattolico che parlava tranquillo pace amiamoci l'un e l'altro siamo fratelli tutti sì siamo fratelli fratelli non abbiamo detto che non siamo fratelli non abbiamo detto però già dall'alto del pulpito fa parte del piano di Renner che era un gesuita e qual è lo scopo? la supremazia del papato è la soppressione del protestantesimo e cosa dice? più volte anche ho sentito questo con i miei fratelli di chiesa non mi sento ma quella preghiera di quel preto era così bella adesso mi sento più cattolico fratello Dennis mi sento più cattolica adesso perché loro sono tranquilli wow tu noi pensiamo che non ha l'effetto queste cose collaborazioni non ha l'effetto sulle persone ma in realtà sì sì anche quelli che partecipano e pensando di non avere di essere stati cambiati nella mente si sbagliano possiamo vedere anche possiamo vedere anche i frutti cosa dice Reino qua? l'ultima cosa passiamo altra cosa lui dice leggiamo il versetto diciamo il secondo paragrafo sorella in terzo luogo quando l'idea di unità acquista simpatia generale tra i cristiani l'unione ecumenica nelle chiese si conformerà potrebbe spaventare alcuni protestanti ma il piano fornisce un modo astuto per neutralizzare la loro preoccupazione le singole denominazioni rimarebbero al loro posto le organizzazioni ecclesiali rimarebbero intatte avresti ancora l'impressione che tutte le denominazioni che esistevano prima siano ancora in atto ma la tesi 4a di questo libro è chiaro che si dirà che tutti riconoscono l'autorità del Papa tutte le chiese partner riconoscono il significato e il diritto del servizio del Papa di Roma ad essere il garante visibile dell'unità della chiesa le singole denominazioni rimarrebbero al loro posto quindi i battisti saranno sempre i battisti con i nomi battisti ma in realtà in fondo sono cambiati l'insegnamento non è più lo stesso i luterani che hanno firmato come ha detto Tony Palmer nel 1999 con Roma il corso sulla giustificazione per fede sono sempre lì con i nomi luterani ma in realtà sono cattolici tutti presbiteriani uguali avventisti uguali lì e quando tu vai nell'insegnamento fratelli nel pane di vita che dà la vita il pane di cui abbiamo bisogno per poter vivere spiritualmente è lì che ti accorgi che abbiamo fatto una serie qua con il fratello Marco sulla giustificazione la santificazione sulla umanità di Gesù cosa è il peccato su tutti questi argomenti ti rendi conto wow siamo sempre lì con il nome ma in realtà cosa insegniamo qual è il frutto di quello che insegniamo tutto questo fratelli per farci non è per dire che sono persi no non ci dobbiamo mischiare le cose non è detto che sono persi no per aprire i nostri occhi perché se Dio ha aperto i nostri occhi su queste cose è perché lui vuole che noi possiamo intercedere per loro non perché siamo migliori perché Dio ha aperto i nostri occhi se no diventiamo orgogliosi e questo Dio resiste agli orgogliosi e vediamo bene quando Robert Schuller questo evangelista molto conosciuto dice è tempo che i protestanti vadano dal pastore il Papa per chiedergli cosa dobbiamo fare per ritornare per tornare a casa perché adesso si riconoscono come riconoscono come cattolici in realtà anche se hanno in nome evangelisti abbiamo parlato della tecnica per poter infiltrare adesso vediamo una cosa importantissima che è lo spirito che c'è dietro perché se non vediamo non possiamo identificare lo spirito sulla base della parola saremo ingannati Gesù Cristo ha detto in Matteo capitolo 24 versetto 4 guardate che nessuno vi inganna è per questo che adesso andiamo a vedere qual è lo spirito che c'è dietro a tutto questo e Gesù Cristo ci dice tramite il suo servo Giovanni in prima Giovanni 4 versetto 1 carissimi non crediati non in spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio perché molti falsi cristi sono sorti nel mondo per quello andiamo a vedere lo spirito che c'è dietro se lo spirito che c'è dietro non ha niente a che vedere con lo spirito santo allora la scelta per noi sarà ancora più facile o continuare con loro o andare oppure astenersi oppure dire un no molto duro e poi per poter identificare lo spirito che c'è dietro visto che abbiamo letto quando diranno pace e sicurezza pace e sicurezza per qual motivo dicono pace e sicurezza per poter stabilire un momento di pace sulla terra ricordiamoci quando abbiamo parlato della contraffazione dell'avvenuta di Gesù Cristo abbiamo visto che fanno tutti questi movimenti questo movimento per poter creare il momento di falsa pace in cui regnerà l'uomo del peccato e sappiamo che l'uomo del peccato verrà con segni prodigi influenzati dal potere di Satana pace e sicurezza e vediamo bene Giovanni 14 versetto 27 Gesù dice io vi lascio la pace io vi do la pace io non ve la do come il mondo ve la da il vostro cuore non si atturbate e non si spaventi la domanda è come il mondo ci da la pace questa è questa è una bella domanda abbiamo un uomo adesso andiamo a vedere un altro uomo molto importante nel movimento ecumenico che si chiama il professor Hans Kung lo potete anche cercare su internet quando avete tempo il professor Hans Kung lui dice una cosa importantissima possiamo leggere all'assemblea delle Nazioni Unite il 9 novembre 2001 leggiamo sorella insieme niente pace fra le Nazioni senza pace fra le religioni niente pace fra le religioni senza dialogo fra le religioni e niente dialogo fra le religioni senza le norme d'etica mondiale Gesù Cristo dice in Giovanni 14 io non vi do la pace come il mondo ve la dà adesso andiamo a vedere come il mondo ci dà la pace e ci propone questa pace lui dice non ci può essere pace fra le Nazioni senza pace fra le religioni perché loro per loro le religioni sono la causa principale delle divisioni nel mondo per questo c'è bisogno di una pace fra le religioni e niente pace fra le religioni senza dialogo fra le religioni per quello si parla di dialogo inter religioso per quale motivo per trovare la pace nel mondo pace e sicurezza ma c'è una cosa una trappola e dialogo niente dialogo fra le religioni senza le norme d'etica mondiale quindi senza qualcosa che potrebbe essere imposta allora come si dovrebbe svolgere questo dialogo fra le religioni Hans Kunk ci dice ancora un'altra cosa sorella leggiamo insieme con una religione con una religione che si ostina sul proprio sul suo proprio criterio di verità assoluta un vero dialogo è senza speranza i dirigenti di tutte le religioni devono riconoscere la loro responsabilità nella pace mondiale la carità non la violenza la riconciliazione il perdono cosa dice con una religione che si ostina sul suo criterio di verità assoluta la pace fra le religioni la pace nel mondo dipende dalla pace fra le religioni la pace fra le religioni dipende da un dialogo interreligioso ma il dialogo interreligioso è intrappola in che senso perché se nel dialogo interreligioso tu credi una verità assoluta allora non è possibile la speranza non c'è speranza di non c'è speranza di pace mondiale significa che la verità assoluta noi pensiamo che c'è la verità perché la verità per sé di per sé è già assoluta la verità è assoluta Gesù Cristo è la verità non dice io sono una delle verità se arrivo nel dialogo interreligioso e dico Gesù Cristo è la verità sono un problema no devo avere un cambiamento di pensiero e dire no tu pensi veramente fratello che solo Gesù è la verità più volte ho sentito questo fratello per le persone che vanno nel dialogo interreligioso perché dicono no ma tu credi veramente che Gesù Cristo è la sola via perché sono già stati cambiati senza non se ne accorgono dico wow fratello tu mi fai questa domanda ma ieri già qualche anno fa non mi potevi fare questa domanda come mai oggi mi fai quella domanda significa che c'è stata una trasformazione nel modo di pensare non è più solo Gesù che è la via la verità e la vita c'è anche Mohammed c'è anche Buddha c'è anche c'è anche c'è anche alla fine c'è il cambiamento e poi il processo va piano piano va in modo lescio chi è questo Hans Kung questo Hans Kung è diciamo il fondatore dell'unico dell'etica mondiale nel 1993 creazione della fondazione etica mondiale e lui ha partecipato al concilio Vaticano 2 questa è un po' la sua biografia non leggeremo tutto e lui ha collaborato molto con Ratzinger che è diventato Benedetto XVI e notiamo una cosa è che il massone il professor Giuliano Di Bernardo filosofo e massone italiano gran maestro del Grand Oriente dice una cosa importantissima dell'etica mondiale oppure del Parlamento Mondiale delle Religioni leggiamo un po' sorella cosa dice troviamo una conformità tra l'etica massonica e i principi elaborati dal Parlamento Mondiale delle Religioni come mai tu rimandi ti puoi chiedere ma cosa c'entra cosa c'entra Parlamento Mondiale delle Religioni oppure dialogo interreligioso con l'etica massonica in realtà dovrebbero dire no non trovo nessuna conformità perché perché loro credono una verità assoluta ma anzi cosa dice io trovo una conformità fra l'etica massonica e il Parlamento Mondiale delle Religioni quindi in realtà chi è adorato nel Parlamento Mondiale delle Religioni chi è adorato lì è Gesù Cristo e il professor Hans Kung anche con con Ratzinger che sono molto sono molto amici è stato ringraziato il il professor Hans Kung anche dalla dalla dai massoni ha ricevuto un premio per il suo libro sull'etica mondiale e l'etica mondiale è la base per poter stabilire la pace mondiale e come mai i massoni danno un premio a Hans Kung se fosse veramente un cristiano avrebbe se avesse veramente la mente oppure solo sta scritto sicuramente i massoni avrebbero detto no non c'è niente fra te e noi non vediamo quindi il premio no non possiamo chiamare non è che qualcuno tu fai la tua festa tu chiami tu organizzi non so un festival un festival e tu chiami qualunque persona per strada per dare un premio no è che è stato studiato bene il tuo modo di pensare i tuoi libri la tua filosofia e tutto e vediamo che nel 2004 c'è stato il Parlamento mondiale delle religioni che insieme mi sa che avevamo già parlato di questo una volta insieme hanno fatto l'arca dell'allianza intorno a cui si sono messi per poter pregare insieme per la salvaguardia della terra la salvaguardia del creato ma in quest'arca dell'allianza non c'entra niente con l'arca dell'allianza che si trova nell'arca dell'allianza nel luogo santissimo in cielo non c'entra niente con l'arca dell'allianza che portava Mosè nel deserto che era nel luogo santissimo dentro non ci sono i dieci comandamenti c'è la sciarta ecumenica della terra e sui lati possiamo vedere se voi andate a vedere anche su internet ci sono i cinque elementi che sono lo spiritismo la terra l'aria l'acqua lo spirito queste cose qua non c'entrano niente con i comandamenti di Dio parlamento mondiale delle religioni quando un cristiano vede questo dirà wow non voglio avere niente a che fare con questa cosa dove sono finito in realtà il cristiano dovrebbe dire così dove dove vado eh sì andiamo a dialogare dialogo inter religioso abbiamo visto la condizione se credo in una verità assoluta significa la verità assoluta Gesù Cristo è l'unica cosa che impedisce una pace mondiale se togliamo Cristo Gesù Cristo va bene ma finché ci sarà Cristo e che ci saremo noi ad adorare Gesù Cristo e mettere in mili e innalzare i suoi dieci comandamenti innalzare i suoi dieci comandamenti saremo sempre un bastone fra le ruote di Satana e con noi che crediamo in Dio che abbiamo scelto i suoi comandamenti Satana non potrà regnare sulla terra in terra un po' come in Giove capitolo 1 vi ricordate quando Lucifero quando Satana si si passeggia Dio lo vede e dice ma da dove vieni ero a passeggiare per tutta la terra perché lui sapeva che era il suo il suo dominio ma cosa ha detto Dio no c'è il mio servo Giove tu pensi che tu sei re della terra ma in realtà non tutti hanno inginocchiato si sono inginocchiati davanti a te c'è comunque un rimanente quindi finché saremo rimanenti Satana non potrà regnare su tutta la terra qual è lo spirito che c'è dietro abbiamo visto lo spirito ha a che fare con lo spirito massonico lo spirito che c'è dietro abbiamo visto l'altra volta che tutti stanno aspettando un messia no ma notiamo che c'è un libro scritto da Papa Francesco Madre Terra e quell'arca dell'allianza era lì per la salvaguardia della terra tu dici wow come mai andate a fare andate a fare non so riunioni per la salvaguardia del creato quando in realtà il sabato è una commemorazione della creazione in realtà dovrei dire fratello ti vuole bene anche tu sei non importa che tu sia cattolico metodista qualunque sia cosa io ti voglio bene però se io vado con te in realtà sto sarò facendo l'idolatria quindi io ti voglio bene ma non posso venire con te nella tua riunione di salvaguardia del creato perché so cosa c'è dietro lo spirito che c'è dietro è lo spirito della madre terra e questa madre terra potete vedere qua allo schermo è simbolo tutte le nazioni sono intorno a cosa al sole cosa è il sole cosa rappresenta il sole lo sappiamo benissimo e lui dice madre terra il panteismo la nostra madre terra questo è il panteismo abbiamo qualcuno nella chiesa avventista che era nel panteismo il kelok lui era nel panteismo e abbiamo l'espito profezia che scrive di kelok e lei dice no niente non ho niente a che vedere con queste cose non dovete avere niente a che vedere con queste cose perché è l'uomo che ha iniziato adorare la creatura invece di adorare il creatore questo non è biblico questo è una creazione dei comandamenti di dio non avrai altri dei al di fuori di me qua è lo spirito che c'è dietro lo spirito gaia qua è lo spirito che c'è dietro spirito massonico qua è lo spirito che c'è dietro abbiamo visto una volta sempre quando abbiamo parlato della contraffazione del ritorno di gesù cristo che tutti aspettano messia tutti aspettano tutte le religioni aspettano qualcuno i giudei aspettano il messia i musulmani aspettano il madì l'indù aspettano la reincarnazione di krishna i cristiani aspettano gesù non tutti hanno qualcuno aspettano qualcuno e abbiamo i buddhisti e quelli del new age aspettano il dio metraia avevamo visto questo dio metraia è sempre simile molto simile a questa immagine di gesù che si fa vedere ovunque quindi sempre un inganno per preparare la mente della gente quando apparirà tutti diranno è gesù perché la mente è già stata preparata all'accolto all'accoglienza del del falso del falso messia e abbiamo visto che blavatsky che è stata molto già la madre spirituale delle persone come come dalai lama come einstein come gandhi e se andate su internet per trovare cercare blavatsky elena vi rendere conto che lei proprio a livello è la sua filosofia che regna nelle nazioni unite e lei dice metraia è il nome segreto del quinto buddha e dell'avatar anche questi film avatar non è a caso ma si avatar è uscito avatar avatar 2 è uscito per quale motivo riparazione quinto buddha è dell'avatar khaki dei bramini l'ultimo messia che verrà a culmine del grande ciclo lo definì un nuovo salvatore per l'umanità tutto tutto questo il proposito del nostro studio della nostra meditazione di oggi era di far vedere ci sono anche tantissime altre cose però visto che abbiamo poco tempo abbiamo fatto vedere queste cose in modo che sulla base di queste informazioni ognuno di noi va a cercare e vede allora fa impur fare pure contro e fa le sue scelte abbiamo anche nella Bibbia prendiamo un esempio abbiamo nella Bibbia Salomone che è andato a fare alleanze con l'Egitto con la principessa d'Egitto abbiamo nella Bibbia tanti esempi in cui vediamo sempre che quando il popolo è andato per fare alleanze non contando su Dio contando sulle forze umane per poter essere protetti e non essere chiamati setti sempre sono caduti nell'idolatria quanti di noi cadono nell'idolatria a causa di queste cose che ognuno di noi faccia la sua scelta io ho già fatto la mia scelta io e la mia famiglia abbiamo già fatto la nostra scelta che queste cose non vogliamo avere niente niente a che vedere con questo possiamo pregare come abbiamo detto prima citano il solito lo spirito e profezia dobbiamo pregare insieme sì dobbiamo pregare insieme ma immaginiamo un po' a scala ridotta che siete con il vostro vicino e un giorno il vostro vicino vi viene a dire guarda guarda fratello io non sono più cristiano sai ma sono diventato faccio il voodoo potresti venire a pregare con me mettiamoci mettiamoci insieme preghiamo insieme ha un senso facciamo un'alleanza per cercare la pace facciamo a scala ridotta perché quando pensiamo troppo a scala grande forse non non riflettiamo bene scala ridotta il tuo vicino facciamo insieme mettiamoci insieme vedrai che è idolatria sì fratello possiamo collaborare insieme possiamo fare pregare insieme ma so il proposito che c'è dietro quando so lo spirito che c'è dietro allora posso fare le mie scelte Gesù Cristo non ha mai detto a farisei a sadutei a erodiani a zeloti agli esseni esseni venite insieme e facciamo un gruppo insieme per trovare la pace per trovare una soluzione no finché non saremo noi stessi non potremo essere una benedizione per gli altri quando saremo fermi sui nostri disposizioni quando saremo fermi nelle nostre posizioni come Matti Lutero è stato fermo e questo ha fatto sì che la gente che è venuta dopo di lui diciamo che Dio ha usato questo l'ha usato per poter creare oppure sì suscitare altri riformatori che siamo noi noi che Dio ci ha chiamati all'esistenza per un motivo ben preciso che Dio ci dà il suo spirito in modo in modo che noi possiamo essere la luce ovunque siamo le nostre comunità le nostre case che possiamo portare delle risposte perché sono tanti che non hanno risposta dicono sì andiamo lì quando gli fai vedere le cose che noi con la piccola preparazione che abbiamo poco a poco Dio quando avremo le informazioni chiare su delle cose Dio ci presenterà le persone per poter condividere con loro che Dio ci dà il suo spirito e vi riempio anche voi del suo spirito in Gesù Cristo il nostro unico salvatore amén 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 grazie a Dio amén 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 gloria a Dio per questo studio che lui ha permesso grazie per le sue bontà nelle nostre vite carissimi fratelli tra poco passeremo al momento speciale di questo incontro che è il vostro momento il momento nel quale potrete interagire fare domande fare considerazioni testimonianze brevi riguardo all'argomento di cui oggi si è parlato che oggi abbiamo studiato insieme ma grazie a tutti Grazie a tutti